Gravissimo incidente sulla linea Filobus 9091 a Milano. Una ragazza è stata investita dal mezzo mentre attraversava la strada per recarsi ad una delle fermate principali. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze e la polizia municipale che hanno condotto la ragazza in ospedale, smaltendo poi il caos del traffico. A quanto pare non è la prima volta che su questa linea urbana accadono incidenti simili. Gravissimo